Si chiama Nelson William Montes Lisa Raso, sarebbe un ex sacerdote della Colombia il quale avrebbe 50 anni di età e pensate che con questo uomo avrebbe parlato di recente di amore e infatti avrebbe detto l'amore non ha età in quanto diciamo così che costui avrebbe compiuto qualcosa nei confronti di qualcuno ma non voglio mettervi nella condizione di venire a conoscere, di venire a sapere ciò che questo ex prete avrebbe fatto questo ex sacerdote avrebbe compiuto, avrebbe commesso, non raggiungo altro fate le vostre ricerche sul web mettendo il nome e cognomi di costui questo video non vuole rendere la sua privacy negli altri persone ma solo informare eventuali persone di quello che ci sarebbe accaduto nel pieno rispetto della sua persona e della sua privacy della sua integrità morale, etica, quindi personale grazie a tutti un saluto caro Aleandro, il narratore italiano grazie a tutti